Le forze dell'ordine vicine ai vigili del fuoco. Questa mattina infatti il questore e tutti i rappresentanti delle varie forze dell'ordine cittadine hanno fatto visita al comando provinciale in solidarietà dopo la tragedia di Alessandria dove tre pompieri sono rimasti uccisi nell'esplosione di una cascina. Oltre al questore Salvatore Cilona presenti il comandante provinciale dei carabinieri Vincenzo Francese e il comandante della guardia di finanza Adriano Lovito. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco Nicola Ciannelli ha ringraziato così tutti gli intervenuti la splendida manifestazione di solidarietà ha dichiarato ha portato grande conforto e è profondamente apprezzata da tutti noi rafforzando la certezza che non siamo soli nei nostri valori e principi che condividiamo con chi ogni giorno come noi con dedizione e impegno continuo umilmente a servire la nostra nazione.